2 Mirvanava, 3 Oxygen, OM4, primo match, 5 Oxygen, barra 6 Nigno FQ, 7 Nelson Team. In seconda fila con il numero 8, Principe Man. Di galoppo Nigno FQ, in segue, dopo breve incertezza Oxygen, barra 6, 3, primo match. Stacco della macchina con Nefer Team e Nelson Team alle prese. Dopo un centinaio di metri rientra Nefer Team all'avversario che cerca di parcheggiare alla corda dopo 200 metri in 13,7. Nelson Team in qualche maniera prova a scavalcare o comunque a farsi il posto davanti a Principe Man, un'operazione che riesce per linee esterne Nirvanava che ottiene il via libera dopo 400 metri in 29,2. Davanti alle tribune guida Nirvanava nei confronti di Nefer Team, poi Nelson Team in terza posizione. In quarta Principe Man, largo Oxygen, barra pedinato da primo match. A chiudere Oxygen, OM, il rimesso Nigno FQ, primi 600 metri in 44 e una linea quando i cavalli affrontano la seconda curva. Non ci sono variazioni sostanziali, tutti alle spalle di Nirvanava che arriva al paletto degli 800 iniziali in 59,9 con una frazione in 15,8. Nirvanava, Nefer Team e Nelson Team, poi Oxygen bar percorsi esterni ancora di dentro. Principe Man, a largo primo match, alla retroguardia Oxygen, OM e Nigno FQ. Chilometro di Nirvanava in 1,15, tondo, tondo e a 5,50 la conclusione è filata da Nefer Team, poi Nelson Team e Oxygen barra a largo, primo match che prova a muovere in terza corsia, quando davanti si completano tre quarti, Milo e 1,29,3, chiusi con un parziale in 14,2. In vantaggio Nirvanava nei confronti di Nefer Team che si prepara, poi Oxygen bar che è passato in terza posizione, quando i cavalli completano la curva finale, in vantaggio Nirvana che richiesta l'allungo, Nefer Team rimane un po' sul passo, 150 al palo, Nirvana in vantaggio non riesce a staccare, Nefer Team che allora si affaccia, sono un po' tutte stanche, a metà addirittura, Nirvana di dentro, Nefer Team a largo e sul palo, Nirvana va e Nefer Team virtualmente in linea, mentre al terzo posto, principalmente forse a largo di tutti, prevale sugli avversari, 1,59,3 il rotolo, 29,9 gli ultimi 4, 14,6, la media al chilometro, andiamo a rivedere le battute conclusive, probabile fotografia per quanto riguarda il successo tra Nirvana va di dentro con Federico Marangi e Nefer Team a largo con Romano Tamburrano, i due sono davvero molto molto vicini, mentre per quanto riguarda la terza moneta a largo, il numero 8 di Principe Men dovrebbe aver battuto gli avversari, così è pertanto foto, per quanto riguarda il successo tra il numero 2 Nirvana va e il numero 1 Nefer Team, terzo dovrebbe essere l'unica certezza in questa corsa, il numero 8 Principe Men.